41 anni, laureata in Ingegneria, Edile e Architettura, libera professionista, appassionata di edilizia e cultura, oltre che sostenitrice di un ambientalismo pragmatico che mette al centro imprenditoria e analisi energetica. Si descrive così Cora Fattori, new entry della Giunta Comunale Fanese, pronta a dare il suo contributo facendo leva sulle sue competenze specifiche e sulla sua visione di ambiente quanto mai concreta. Il sindaco ha riconosciuto questa cosa e mi ha chiesto di entrare con delle deleghe specifiche nell'amministrazione e per questo lo ringrazio perché vedo che con le deleghe dedicate ha compreso a pieno quello che è il mio pensiero politico. Io sono iscritta a Pio Europa, faccio parte dell'Assemblea Nazionale di Pio Europa e anche Pio Europa di cui faccio parte da sempre affronta le stesse tematiche allo stesso modo. È stata Barbara Brunori a ereditare le deleghe della dimissionaria Fabiola Tonelli, lasciando però quella la partecipazione a Etienne Lucarelli. Cultura, ambiente e digitalizzazione sono invece ora nelle mani di Cora Fattori, un trissi inedito che concettualmente parte addirittura da Vitruvio e dal connubio tra architettura e consapevolezza ambientale e che ora si apre a tutta una serie di sfide particolarmente attuali. Saranno delle sfide enormi, abbiamo un caro energia che ci ha sorpreso, si lavora da anni, anche la comunità europea lavora da anni per fare efficientare gli immobili pubblici e privati, tanto è vero che con la delega consigliare che avevo l'efficientamento energetico fin dal 2019, in tempi non sospetti, parlavamo di efficientamento energetico, abbiamo già lavorato in questo senso, però adesso il rincario è diventato molto grave, sarà un momento difficile per le famiglie e anche per la pubblica amministrazione. Il nostro dovere è cercare di mettere in atto delle politiche che possano cercare di arginare i problemi. Un'amministrazione locale può poco, però quel poco lo deve fare, lo deve fare con coscienza, consapevolezza e professionalità. Sul fronte culturale, invece, l'orizzonte è il 2024. Pesaro, capitale italiana della cultura, rappresenta infatti un'importante occasione anche per Fano. Ricordiamoci che siamo un territorio coeso e Pesaro 2024 è un'importante occasione per Pesaro, ma anche per Fano. Ci saranno dei giorni dedicati alla città di Fano in questo incontro. Fano deve essere pronta, preparata ad accogliere, a far conoscere il suo ricco patrimonio culturale. Abbiamo un mondo di associazioni che ci possono aiutare in questo, dovranno aiutarci in questo e sarà mio dovere aprire le braccia, aprire le orecchie e ascoltare e cercare di mettere in atto una progettualità migliore. Poi c'è la digitalizzazione. E' guai a definirla una delega secondaria. Per Cora Fattori si tratta infatti di una strada irrinunciabile se si desidera un'amministrazione più efficiente e un'azione ambientale più determinante. L'importanza del digitale è sotto gli occhi di tutti, soprattutto a seguito della pandemia. Ma fin da prima il digitale ci permette di ottimizzare le risorse, di spendere meno e spendere meglio. Se noi spendiamo meno e meglio come pubblica amministrazione ne guadagnano i cittadini perché abbiamo più respiro per i servizi. E quindi è un settore assolutamente strategico che con l'ambiente va a braccetto. E va a braccetto anche con la cultura. E poi scoprirete il perché. Abbiamo diverse cose da far conoscere sulle quali il Comune di Fano sta lavorando da anni e molto importanti.